Orchi e Di Nardo con una doppietta regalano tre punti pesanti a Lavastese contro il vasto Girardi. Con le immagini di Edoardo D'Addario passiamo la cronaca. Dei bianco-rossi esordio in panchina per Luca Relli che in settimana ha preso il posto dell'esonerato Ferrazoli. Il neotecnico aragonese si affida a un 3-5-2 fuori Busetto per squalifica e Ricciardo per infortunio. I molisani, vera rivelazione del campionato, vengono da sette risultati utili consecutivi. Piccoletti sceglie 1-4-3-3, partono subito forteli al quinto punizione di Ruggeri dalla distanza. Del giudice riesce a deviare con la palla che si stampa sulla traversa. Al sesto e Fiori per i giallobru a provarci con un'acrobazia tutto facile per l'estremo bianco-rosso. Finalmente si vede Lavastese al minuto sette con Calì che da due passi non trova la coordinazione e strozza il tiro. Al ventesimo Lavastese esce in maniera esemplare dalla propria tre quarti con una serie di triangoli. Di prima Di Nardo converge in aria e serve Calì. La sua conclusione viene salvata prima di varcare la linea da un difensore molisano. Al trentunesimo slalom gigante di Majorano in area ospite, conclusione del numero 8 respinta da Petriccione di piede. Al trentanovesimo Calemme riparte in contropiede e conclude tiro centrale con Del Giudice che blocca in due tempi. Al quarantaduesimo Di Nardo se ne va di forza puntando la difesa gialloblu, entra in area e scarica un destro su cui Petriccione non può nulla. 1-0 Lavastese si va a riposo con questo risultato. Nella ripresa riparte determinata Lavastese al quinto calcio d'angolo e Orchi trova la deviazione vincente sotto porta e fa 2-0. Al decimo Calici prova da fuori, normale amministrazione per il portiere molisano. I padroni di casa gestiscono, i molisani alzano il baricentro al ventunesimo, conclusione di fiori sul primo palo con Del Giudice che respinge con i piedi. Al trentaquattresimo contatto dubbio in area bianco-rossa, il direttore di gara esposito assegna il penalty sul dischetto Valorusso che spiazza l'estremo aragonese e si va sul 2-1. Nel momento migliore dei molisani, Lavastese sigla il 3-1 e Di Nardo a raccogliere una palla vagante in area e a piazzare la zampata vincente con il mancino. Alla quarantannomesimo Mancni la piazza a giro sotto la traversa, del giudice vola e deve in angolo. E questa l'ultima azione della gara con i bianco-rossi che tornano alla vittoria dopo due stop consecutivi. Buona la prima per mister Lucarelli. Il Vasto Girardi si ferma dopo un lungo filotto e resta a quota 14 in classifica. Gli aragonesi salgono a punti 10. Mister Lucarelli, buona la prima per Lavastese, serviva una scossa, poco tempo per lavorare però insomma già sono arrivati tre punti. Questo significa che la squadra è di qualità, è stata costruita un ottimo organico secondo me e ho già detto che la squadra sia fisicamente che tecnicamente è a posto. Significa che chi c'è stato prima di me ha fatto comunque un buon lavoro e io ho un po' giovato anche di questo. Perché in una settimana non si può stravolgere assolutamente nulla, ci vogliono almeno 40 giorni e noi abbiamo cominciato, meglio cominciare con il piede giusto e quindi ci teniamo questa prima vittoria. Serviva una gara pragmatica, determinata, insomma è una Lavastese che da un po' non si vedeva così. Bravo, noi abbiamo preparato la partita e quindi abbiamo, conoscendo bene il Vasto Girardi che è una delle squadre che veramente interpreta un tipo di calcio un po' diverso che non si vedeva negli ultimi anni in Serie D e noi conoscendo naturalmente è stato anche un vantaggio sapere come loro erano organizzati. Però un Vasto Girardi che ha veramente delle grandi trame di gioco, una grande voglia di fare un tipo di calcio e si è visto tutto nonostante la sconfitta. Mister Coletti si interrompe il filotto oppositivo della sua squadra contro Lavastese? Purtroppo sì, si è interrotto, si è interrotto in una partita comunque che ci aspettavamo dai toni caratteriali, siamo stati poco lucidi in alcune scelte, credo comunque abbiamo avuto un bel po' di occasioni, quindi ripeto, poi la partita la facciamo sempre, ci sono errori da vedere, da migliorare e lavoreremo per questo. Si è interrotta, pazienza, lavoreremo per riprendere subito il trend che avevamo prima. Comunque un Vasto Girardi che non è lì su in classifica per caso, abbiamo visto delle belle prestazioni, anche quest'oggi qualcosa di molto buono, alternato a qualcosa di meno efficace. Ma devo dire la verità, oggi sono 10-11 partite ufficiali, non ho mai visto la squadra fare una prestazione sotto tono. Poi ci sono delle disattenzioni e gli episodi purtroppo comportano che la partita si perda e se va sotto nel risultato, però non posso parlare di una non prestazione. Sono degli ottimi ragazzi, si impegnano sempre, li ringrazio sempre tutti i giorni, danno il massimo e questo basta. Purtroppo fa parte del percorso, gli errori fanno parte del percorso, servono per migliorare, quindi lavoriamo per migliorare. Al prossimo episodio